Salve a tutti Blazers e benvenuti in questa nuova mod review della domenica Ragazzi, questa settimana andremo a fare una mod review molto diversa dal solito, molto ma molto diversa Uno perché non è la classica mod che ti aspetti, non è votata il gameplay Non è votata a niente di paragonabile a quello che abbiamo visto in passato E due perché è davvero un casino da usare, ma cercherò di spiegarvelo almeno Infatti qui siamo nella stranissima isola di spawn della mod Terra 101 Vale a dire la Terra, il pianeta Terra, riprodotto in Minecraft in scala 1 a 1 Il che vuol dire che ogni blocco, ogni fottuto blocco che vedremo, rappresenta un cubo di un metro di lato E in questo modo l'intero pianeta Terra è stato riprodotto in Minecraft È un progetto davvero ambizioso, vi spiego prima di tutto come funziona Questa mod si basa sui classici dati che abbiamo a disposizione un po' tutti Se andiamo su internet e digitiamo Google Maps abbiamo la mappa di tutto il mondo E quindi basandosi su dati a disposizione di tutti gli utenti Hanno creato un generatore di mondi che va a prendere quei dati e a replicarli su Minecraft In questo modo si ricrea il pianeta Terra in maniera quasi diciamo identica, fedele Scala 1 a 1 Chiaramente ci sono dei problemi, chiaramente non è tutto fedelissimo Ma è una cosa assolutamente bestiale Immaginate ora di tipparci e di essere di colpo, che ne so, a Parigi Oppure ci tippiamo ancora e siamo sul Monte Fuji E a proposito, il Monte Fuji, essendo un rilievo naturale, sarà generato Mentre le città chiaramente non vengono generate In quanto questa mod crea un pianeta Terra senza la presenza umana Che è una cosa molto interessante Ma partiamo dal principio Per far funzionare questa cosa, oltre alla mod stessa di Terra 101 Serve la Cubic Chunks Mod e la Cubic World Gen Mod Tutto quanto lo trovate in descrizione Versione 1.12.2 Fatto ciò, andate a creare un mondo Consiglio di mettere la creativa I cheat attivati E poi andate a selezionare il tipo di mondo Ne troverete un po' aggiunti dalle varie mod A noi interessa il pianeta Terra Ed eccoci all'interno del mondo O chiaramente qualsiasi mappa generate con questo generatore di mondi Siete sempre su pianeta Terra Ma dobbiamo andare a visitare i posti della Terra Quindi come si può fare? In questo momento siamo su Google Maps E ho cercato il Monte Fuji Che purtroppo all'interno del gioco genera senza neve Vedete che, cioè, per lo più è senza neve Però il versante nevato è tipico del Monte Fuji Quindi vederlo senza neve con i fiorellini è un po' un peccato Per questo motivo andiamo sul sicuro Monte Everest Ragazzi, questa è la cima del monte più alto della Terra Il Monte Everest Andando sulla punta vado a cliccare così E ottengo dei numeri Vedete questi numeri? Questi numeri ci servono E quindi me li tengo un attimo da parte Ecco, per inciso, questo era il Monte Fuji E questo è all'interno del suo cratere Che come vedete viene generato Morfologicamente La struttura della montagna c'è Ma non ci sono gli aspetti fondamentali Cioè, tipo Non penso che in cima, al posto della neve e delle rocce Ci sia una mucca e delle peogne Però, insomma, la mod fa quello che può Andiamo ora al Monte Everest Quindi, ragazzi Le coordinate che abbiamo preso Da Google Maps Sono queste Che sto segnando Queste sono le esatte coordinate Che abbiamo preso da quel punto Potrei averlo spostato leggermente Però, insomma, non cambia il suco del discorso Le useremo per fare un TP Vedete? Slash TP e le due coordinate Ma con una differenza Prima di tutto Devo andare a togliere l'ultima cifra E la virgola da entrambi i numeri Quindi tolgo il 9 E tolgo la virgola In questo modo Ottengo Due coordinate molto alte Che sono convertite Nel formato che usa Minecraft E questa mod In questo caso Ci manca l'altezza Quindi qui in mezzo Ci mettiamo l'altezza Il Monte Everest è parecchio alto Quindi dobbiamo andare parecchio in alto Quindi l'altezza è di 8.848 Se non ricordo male Metri Arrotondiamo Facciamo 8.900 In modo da sponare in cielo Con un margine di sicurezza Ci tippiamo E diamo il tempo di generare Perché sta generando una montagna O almeno in parte La punta Diciamo Che però È alta quasi 9.000 metri E quindi 9.000 blocchi Non è proprio facile Però Diamogli un attimino E ragazzi Non ci crederete mai Ma questa È la punta Del Monte Everest Siete mai stati Sul Monte Everest? Sulla punta massima? Che quindi sarebbe questa? No? Beh io adesso posso dire Di esserci stato Alla bellezza di 8.752 metri Che non è perfettamente accurato Però insomma Non siamo qua A pettinare le bambole E ce ne facciamo una ragione Questa stradina Che vediamo Tagliare la montagna È probabilmente Una Uno Dei percorsi Che usano Gli scalatori Per arrivare in cima Chiaramente Lo sterrato Serve a rappresentare Il percorso Riprodotto dalle mappe Anche se non è Perfettamente realistico Anzi Non lo è per niente Potremmo dire Così come Il coniglietto in cima All'Everest Mmm Non lo so Ho qualche dubbio Per dimostrarvi Che questo è il Monte Everest Comunque Al di là dell'altezza Notiamo un versante Davvero ripido Ci sono delle grotte Ed è possibile trovare cascate Anche di lava Vi avviso Questi sono ovviamente elementi Della generazione Dei mondi di Minecraft Che vanno a Minecraftizzare Il mondo reale In questo caso Però Devo dire che Cioè l'idea Che tutta la montagna Sia stata riprodotta È qualcosa di incredibile Solo facendo così Noi siamo scesi Di qualche centinaio di blocchi Ed è alta Migliaia di blocchi Quindi per arrivare a terra Ce ne vuole il tempo Oltre che siamo Su una catena montuosa enorme Quindi qui possiamo Fare il primo dislivello Di quanto 4.000 blocchi Forse E non di più È appena successo Che ho ittato Una cascata Si è attivata l'acqua Ora l'acqua Inizierà a scorrere Dal versante della montagna E potenzialmente Lo farà Per migliaia di blocchi Ecco Se non è questo Un problema di lag Non so cosa Cos'altro lo possa essere Forse è meglio Andarcene subito Da qui E potremmo visitare Un sacco di posti Come Il Grand Canyon Ad esempio Del quale sto cercando Di salire una parete Con non poche difficoltà E fa davvero paura Ragazzi Io non l'ho mai visto Nel mondo reale Ve lo dico Però caspita Rende l'idea Di quanto può essere alto In questo momento In questo momento Ad esempio Mi trovo invece Al Makapu Point Sperando si pronunci così E siamo Alle Hawaii Infatti qua sotto Da questo punto Di Osservazione Abbiamo L'inizio Dell'oceano Il problema Come notate È il caricamento Di Chunk Che è davvero Infelice Con queste mod E quindi L'osservazione Non c'è Però La riproduzione Del punto È abbastanza Nice Devo dire E perché non fare Un salto tattico In Antartide Ma sì Ho preso un punto A random Dell'Antartide E mi ci sono tippato Anche qui Sicuramente Non credo di trovare Coniglietti E fiorellini gialli Però È simpatico Il fatto che Ci sia questa distesa Enorme Di neve E probabilmente Da qualche parte Ghiaccio Senza fine E questo pone Un'altra domanda La terra È una palla Minecraft È piatto Quindi O hanno ragioni Terrapiattisti O qualcosa Non tornerà Se ci avviciniamo Ai confini del mondo Quindi cosa c'è Ai confini del mondo Tristemente La risposta È che non c'è un bel niente Il modmaker Vorrebbe inserire Dei confini del mondo Magari con Del Del void Improvviso Qualcosa del genere Ma al momento Il fatto è questo Le mappe di Minecraft Sono molto più grandi Del mondo reale E quindi L'intera mappa del mondo È contenuta In una piccola porzione Della mappa Di Minecraft E quindi Oltre alla generazione Del pianeta Terra Ad esempio Nel polo sud Il mondo Continuerà Di generare Una landa ghiacciata All'infinito O per meglio dire Finché non incontreremo La barriera Che Ci impedirà Di continuare Oltre E per concludere Mi sono spostato In Egitto Questo è il punto ideale Per fare una riflessione Finale E chiudere Questa mod review Davvero bizzarra Ci troviamo in cima Ad una Delle piramide Di Giza Come vedete Non ha l'aspetto Di una piramide Il generatore del mondo Ha tentato infatti Di generare Questo ambiente Pensando che la piramide Fosse una Normale collina E quindi poi L'ha smussata E l'ha abbinata Con il resto Del bioma circostante Questo e gli altri esempi Ci fanno capire Quanto questa mod Sia in realtà Limitata Nel senso che Non può riprodurre Alla perfezione Il mondo reale Ma allo stesso tempo Di quanto sia Un esperimento Davvero gigantesco Perché ovunque Ti tipi Trovi Una riproduzione Del mondo reale E magari Ci assomiglia Vagamente C'è qualcosa Che te lo ricorda Non sarà mai identico Non sarà una riproduzione Fatta a mano Però è davvero Una cosa notevole Volevo portare un video Su questa mod Perché è un progetto Davvero interessante E sicuramente Dal lato tecnico Fantastico Dal lato estetico Un po' meno Lato giocabile Secondo me Quasi pari a zero Ma È da tenere d'occhio E magari in futuro Ci riserverà Qualche bella sorpresa Intanto ragazzi Io direi che per oggi È tutto Noi ci salutiamo Ci vediamo domenica prossima Con un'altra mod review E stasera È live alle 20.30 Sul canale Che trovate in descrizione Un saluto da Iron Blaze Ciao a tutti